lunedì sera, noi abbiamo ultimato lo stand e purtroppo manca, c'è ancora tutto il problema delle piastrelle, i posatori ancora non sono venuti, qui siamo dentro, entriamo, lui è bravissimo, grande, molto bravo, anche lui molto molto bravo, ciao caro, lui è made in Spagna, qui è, questi sono i nuovi dispositori, questo è il pannello made in Italy, questa è la seconda infilata, qui ci sarà un box, laggiù un altro box, a un riunioni, qui siamo sulle parti, diciamo, del salone, Woodlink ve l'ha messo, speriamo, domani, Marfili ve l'ha messo, speriamo, domani, ragazzi, 2575, questo, sono le altre box, qui sono i mobili, di 4,000, di 4,000, di 4,000, 7,000, 8,000, di 5,000.